Il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, la presentazione della LPM Banca Fremarittime Mondovì in partenza per la prossima stagione. Un buon segnale di ripartenza anche per la città? Certamente un buon segnale di ripartenza per la città, un segnale di entusiasmo, di freschezza, di energia, che è quello che ci vuole. Adesso siamo stati fermi un po' di mesi, ma la città è sempre vicina, come ricordava giustamente la Presidente Alessandra Fissolo, allo sport, all'LPM, all'attività sportiva, sia per i giovani che per la 2 di pallavolo. Come diceva lei prima, lei spesso è alle partite la domenica, speriamo che anche quest'anno ci possa essere il pubblico. Certo, noi ce l'auguriamo naturalmente che vi possa essere il pubblico e che si possa tornare alla normalità. La città di Mondovì, anche nel periodo più brutto della chiusura del lockdown, ha sempre lavorato, ha sempre avuto un pensiero particolare per lo sport. Noi abbiamo un assessore allo sport, Luca Robaldo, che è veramente sempre molto attivo, molto attento alle tematiche dello sport, che poi sono le tematiche legate al mondo dei giovani, che noi abbiamo molto a cuore perché il futuro sono loro. È importante che l'LPM ha deciso di ripartire con questo sprint, con questa grinta, perché è un bel esempio anche per tutti noi. Grazie a tutti.